Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. La notizia di Rosalinda e Andrea che diventeranno genitori è stata davvero emozionante quando è stata annunciata lo scorso marzo. Ma, purtroppo, negli ultimi tempi, la loro gioia è stata offuscata da un evento sconvolgente che ha colpito la coppia proprio nel momento più bello della loro vita. Rosalinda, ha condiviso con il suo compagno Andrea un tenero messaggio, Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita. Tuttavia, questa dolcezza ha scatenato una reazione negativa da parte di alcuni individui, i cosiddetti haters, sempre pronti a dispensare insulti dalle loro tastiere. Uno di questi haters ha scritto delle parole crudeli e gratuite, rivolgendosi direttamente alla figlia non ancora nata dell'attrice. Insulti come hai paura che zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi. Hai sostituito l'anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo che tua figlia diventi anoressica, sai che ridere. In risposta, Rosalinda ha risposto con fermezza, chiedendo spiegazioni sul motivo per cui certe persone si sentono autorizzate a scrivere cattiverie così pesanti. Ha sottolineato che chi agisce così dovrebbe prendere coscienza delle proprie azioni e imparare la lezione.